Da 50 anni di esperienza a Stilbagno nasce Camer. Inaugurato lo scorso venerdì pomeriggio il presepe di piazza Sant'Antonio a Morbegno, curato come sempre da Croce Rossa Italiana, comitato locale e un pezzo di storia della città del Bitto, tramando un messaggio universale di amore, unione e fratellanza. Un simbolo di radicamento e presenza nel territorio, senza dubbio il presepe cardine dei 24 installati tra le vie e le frazioni della città. Nel quarantennale l'occasione è anche per ricordare uno dei pilastri portanti della CRI di Morbegno, Giuseppe Maxenti, scomparso lo scorso settembre. Al volontario è stata intitolata un'ambulanza. In questa occasione abbiamo voluto sì ricordare questa natività, ma ricordare anche un nostro volontario che ci ha lasciato da poco e che ha dato tanto al comitato, ma ha dato tanto soprattutto alla popolazione. Era il nostro referente per quanto riguarda i mezzi, i mezzi di soccorso, e ci ha sempre consentito di arrivare in tempo dove fosse necessario. Io credo che lui, che ha tanto dato per la vita, in questo momento sia il momento giusto per ricordarlo in vicinanza di una natività. Un ruolo fondamentale nell'allestimento del presepe è ricoperto dal gruppo dei volontari, guidati da Giuseppe Rivolta, che da anni spendono tempo ed energia nella realizzazione dell'opera. Senza dimenticare il supporto finanziario della fondazione Nea Mattei, da dieci anni a servizio di questa iniziativa. La fondazione ha come scopo non solo quello di contribuire alla formazione, alla scuola per i nostri studenti, ma anche quello di valorizzare la cultura, l'arte, le tradizioni. E' meglio del presepe e la realizzazione con i volontari della Croce Rossa, riteniamo che sia uno di quegli obiettivi che persegue la stessa fondazione. Mi piace ancora di più ricordare una cosa, di tutte le persone, anche quelle che non ci sono più, che hanno sempre dato un contributo alla costruzione di questo presepe, perché è diventato nel tempo un pezzo di racconto della memoria morbegnese. Momento importante, poi, per la Croce Rossa di Morbegno, il conferimento della medaglia d'oro alla memoria di Monsignor Gabriele Comani, fondatore della CRI di Morbegno, cappellano capo, ausiliario, forze armate, direttore dell'archivio storico della Croce Rossa italiana, mancato il 4 luglio scorso. A ritirare l'onorificenza, alla Convention Jump 19 di Milano, alla presenza della delegazione CRI della Città del Bitto, il fratello Paolo Comani. Ecco la motivazione. Si è adoperato nella sua lunga militanza nel corpo con slancio e competenza per supportare il personale e tutti coloro i quali si trovavano in situazioni di bisogno sia in Italia che all'estero. Fulgito esempio di sacerdote, che ha saputo coniugare la militarietà con un grande amore per il prossimo, evidenziando profondi ideali umanitari sempre in linea con i principi fondamentali del movimento di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Grazie.